Ebbene sì, ieri i mercati azionari americani hanno fatto un bel balzo grazie ai dati sull'inflazione che abbiamo avuto, quella dei produttori più deboli del previsto e questo ha alimentato le speranze che la Fed possa tagliare i tassi di interesse già a settembre. Come vedete qui il PPI è cresciuto del 2.2 su base annua vicino all'obiettivo del 2% che è quello della Fed, dando così un po' di respiro comunque ai mercati. Ora tutti gli occhi sono puntati ovviamente sul rapporto dei CPI che si terrà oggi alle 14.30 e anche sui dati delle vendite al dettaglio di giovedì. Sono fondamentali ovviamente da capire per intendere bene come stanno andando l'economia e le politiche monetarie, tutto qui. Abbiamo anche avuto i titoli tecnologici, se andiamo a vedere qui, che sono saliti molto. Andiamo a vedere il Nasdaq con Nvidia, AMD, Qualcomm che hanno guidato alla carica. Anche il settore dei beni di consumo ha fatto bene con Amazon, Tesla e molto altro. Starbucks soprattutto che sta per cambiare il CEO che hanno registrato aumenti notevoli. Abbiamo un Bitcoin che ha superato i 61.000 dollari. Nonostante Trump e Musk ieri abbiano evitato di parlare di criptovalute nell'intervista nello space che hanno fatto su X. Comunque vediamo come l'ira di massimo Bitcoin è riuscito a superare i 60.000 dollari grazie ai PPI, grazie a tutta una serie di positività che sta riprendendo sui mercati. Abbiamo avuto anche il mercato del Giappone che ha spinto parecchio, se andiamo a vedere. Quindi siamo un po' tutto correlato adesso sulla salita che stiamo vedendo un po' su tutti gli asset. Il dollaro invece continua a perdere terreno, un po' appesantito dai dati che vediamo qui deludenti che hanno avuto sui prezzi della produzione degli Stati Uniti per il dollaro. E questo ha rafforzato, come già detto, le aspettative di un taglio dei tassi per settembre e così via. Quindi questo è quello che stiamo vedendo anche sul dollaro. L'oro, ad esempio, è ancora molto forte. Quindi questa è un po' la situazione che abbiamo. In questo momento i mercati scommettono su un taglio dei tassi di 50 punti base a settembre, prevedendo oltre 100 punti base di allentamento entro fine anno. Quindi questa cosa è da tenere da conto. Bene, ora il grafico di Bitcoin, se andiamo a plottare le EMA, vediamo come ha ottenuto questa resistenza qui ancora intorno alla 26 EMA. La 200 EMA, stiamo ballando un po' intorno alla... stiamo facendo questo waltzer con la 200 EMA, un po' su, un po' giù, un po' su. Perché, come già vi ho detto ieri, è una linea nella sabbia, divide un po' il downtrend dall'uptrend. E quindi i bulls stanno cercando di combattere contro questo livello. Tra poco andremo a vedere anche le opzioni call più potenti che sono state prese in questo momento, sia su Bitcoin sia su Ethereum, e andremo a vedere anche altri movimenti che sono stati fatti. Comunque qui, quello che sta facendo Bitcoin, per rimanere un attimo sull'analisi, è sta tentando di cambiare il trend, vedete? Sta tentando di riprendersi l'uptrend giornaliero con un AI, un AIRLO, e sta cercando di andare a piazzare un AIRAI per una continuazione così da lasciarsi alle spalle. Questo, come nuovo AIRLO giornaliero, 57.678, questo era l'AWRAI precedente, romperlo e continuare a rialzista fino alla prossima resistenza che siamo intorno a questa zona qua, dai 64 in su. Quindi questo è quello che i bulls stanno cercando di fare. Un po' come stanno cercando di fare sul Nasdaq, che ancora però non ha avuto, non ha trovato il solo AIRAI confermato come Bitcoin, e quindi potrebbe trovarlo come aveva fatto qua, magari iniziare anche lui un percorso di AIRLO e poi vedere se ce la fa a cambiare il trend. Bitcoin, nuovamente a favore dei bulls, lasciandosi le spalle così. Il nuovo AIRLO a 17.254 che teoricamente l'ha già confermato, che è come Bitcoin, ancora però non ha confermato quello dei 48.000 che è il lower low. Quindi questo è quello che stiamo osservando al momento qui sul grafico di Bitcoin. Vi ricordo ragazzi come sempre la promozione di Bitcoin, avete ancora 9 giorni per ottenere 500 dollari in posizioni futures Bitcoin USDT, vi lascio tutto in descrizione del video, così come vi lascio ovviamente su mindchart.io, qui la sezione archivio. Ci sono 15 giorni gratuiti, se no potete iscrivervi alla newsletter gratuita, dove ogni giorno vengono inseriti nuovi tutorial, nuove guide, nuove cose. Adesso inseriremo anche gli indicatori, quindi andrete a vedere un po', non proprio gli indicatori, cioè come vengono utilizzati alcuni degli indicatori che io ho fatto, e come potrete sfruttare l'analisi e il report per capire un po' di più come vanno. Quindi tante cose verranno inserite qui, alla fine avete 15 giorni per provare, se volete magari attendete che è un po' più ricco di robe, comunque sì. Ok? E iscrivete la newsletter gratuita. Andiamo avanti, andiamo avanti. Perché? Rally post PPI net e CPI, che è qui abbiamo visto tutti e tre gli indici come sono saliti, Giappone, abbiamo visto anche, come vedete qui, Bitcoin e Nasdaq che sono saliti insieme. Abbiamo avuto anche qui, come vedete, da MTGOX è stato attivato, spostando una quantità dai suoi fondi, 1.96 miliardi, con il 67.7% il processo di rimborso completato in parte, e quindi non ha smosso tanto il prezzo generalmente, quindi già è molto prezzato. Abbiamo l'unica cosa, la ANV-RV, questo indicatore che è il rapporto dei detentori a breve termine di Bitcoin che confronta il valore del mercato attuale con il prezzo di acquisto del token, quindi il rapporto è sceso sotto l'1 e indica perdite non realizzate per i nuovi investitori, come vedete qua. Quindi attualmente questo rapporto segnala le maggiori perdite non realizzate nella fase ribassista del 2022, evidenziando un po' di stress che c'è stato, però ovviamente ci sta, c'è stato un bel po' di stress finanziario in questo momento. Altra cosa interessante detta da Eric Balkunas, che secondo lui, appunto qui vediamo, entro ottobre l'ETF potrebbe superare quelli di Satoshi Nakamoto nel suo possesso, quindi ne ha 1.1 milioni e potrebbero arrivare entro ottobre a superarli addirittura, quindi per alcuni questa cosa non è vera, per altri sì, vedremo, però è interessante anche capire come l'ETF stanno portando questo tipo di afflussi al momento, tra l'altro oggi sono aumentati. Inespettatamente la Reserve Bank of New Zealand ha ridotto il tasso di interesse ufficiale al 5,25 anticipando il ciclo di allentamento per andare a contrastare un po' diciamo la diminuzione anche del mercato del lavoro, la recessione, tutte queste cose qua, e il dollaro neozionandese ha subito una perdita di 50 punti e quindi ora le previsioni indicano la riduzione del tasso entro metà del 2025. Come vedete qua, abbiamo avuto questa gigante option call di bitcoin con un esercizio di 75.000 dollari entro la fine dell'anno per un totale di 500 bitcoin pagando un premium di 2,91 milioni di dollari. Stesso vale per Ethereum. È stata fatta questa potentissima call con il prezzo di esercizio a 4.000 dollari entro l'8 novembre, quindi probabilmente ci si aspetta che i mercati siano favorevoli alle elezioni e potrebbero continuare a salire per avere fatto questo tipo di call. Abbiamo ricevuto l'afflusso netto di 24.34 milioni qui sull'ETF di Ethereum, così come 38.94 sull'ETF di Bitcoin, come vedete qui, quindi sono aumentate e abbiamo avuto questi afflusso positivi, ovviamente il mercato è in verde in questa volta. e quindi per questo motivo stiamo vedendo positività nel mercato. Se andiamo a dare un occhio alle altcoins in generale, quello che andiamo a vedere appunto è che c'è stata una ripresa di double digit un po' dappertutto. Sul daily qui vedete Rune, Maker, IMX, Aptos, Tontia, STX, Phantom, EG&T, quindi quelle che stanno mettendo più percentuali alla giornata di oggi, sulla settimana, sui EG&T, Sets, quindi un po' di ripresa anche sugli ordinal, un po' di ripresa di queste qui. Sul mese ancora però siamo un po' a ribasso, c'è poca roba sul mese. Come già vi ho detto ieri, abbiamo bisogno di una dominance che scenda perché al momento è ancora molto carica su Bitcoin e abbiamo bisogno di ettir un Bitcoin che salga. questo è quello che sperano tutti che mi auspico anch'io perché comunque una ripresa delle altcoins ci starebbe, una ripresa di Bitcoin e di Ethereum soprattutto. Ci starebbe che secondo me gioca ancora un ruolo da ritardatario quindi lo vedremo, lo vedremo molto bene. Quindi interessante anche questa cosa qui che sta succedendo nei mercati. Bene, quindi ragazzi adesso siamo in attesa dei CPI di oggi. vedremo come andranno se saranno positivi potremmo vedere sicuramente un mercato in continua positività dopo la scorsa pessima settimana che abbiamo avuto e per il momento poi domani ovviamente non penso di aggiornarvi mi prendo una pausa anch'io. Se è piaciuto questo video mi raccomando iscriviti al canale lasciate un bel click su like attivate la campanella seguitemi su tutti i social sotto e noi ci vediamo all'appuntamento di dopo domani ciao a tutti